È un luogo magico, un luogo dove la polifonia trova la sua migliore collocazione. Nella suggestiva pieve di Santa Maria ad Arezzo, il concerto di Natale del gruppo polifonico Francesco Corradini. Un programma in due parti. La prima parte è rinascimentale, una messa del De Vittoria, la messa che rende onore ad uno dei suoi mottetti più riusciti, l'Omagnum Mysterium. E questa sarà accompagnata da strumenti rinascimentali, il cornetto, le lire da braccio e l'organo. Nella seconda parte seguiremo i Laudate Pueri di Giovan Battista Pergolesi, quindi si passa dal rinascimento al barocco frizzante. Laudate Pueri di Giovan Battista Pergolesi, quindi si passa dal rinascimento al barocco frizzante. Grazie. 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 Grazie.